Seconda parte del video, apro un negozio di skate in otto giorni, andiamo a vedere cosa è successo nella prima parte Siamo partiti praticamente da zero e abbiamo cominciato a stuccare, verniciare, ripulire tutti i pavimenti, collegare l'impianto elettrico, sistemare tutto quanto Abbiamo lavorato giorno e notte e quando mancano solo due giorni la situazione tutto sommato non è così male Ma quello che non sapevo all'alba del giorno meno due, come li chiamavamo durante i lavori, era che ci aspettava una brutta sorpresa Ragazzi voi non potete capire, i danni non li dovevamo fare, abbiamo forato il tubo Da qui veniva fuori uno zampillo che arrivava fino là Se non ho idea di come fare ci dobbiamo inventare qualcosa Ma non abbiamo tempo da perdere quindi speriamoci dopo e adesso chiamiamo l'idraulico e risolviamo questo problema Perfetto, l'idraulico ha saldato il tubo, troviamo un muratore, richiamiamo l'imbianchino che si incasperà come una bestia perché abbiamo rovinato tutto il suo bel lavoro Mettiamoci al lavoro Sono le 18.55 manca un giorno e ci siamo quasi Dobbiamo spacchettare tutto l'abbigliamento, piegare tutto, mettere tutto sui mobili Quindi ci vuole un po' di musica garna, ci vuole un po' di musica potente Ma poteva essere il mio negozio un negozio normale? No che non poteva Quindi al suo interno ci voleva qualcosa di insolito Una vera e propria officina all'interno di un negozio di skate Una cosa che sono sicuro non avete mai visto Il negozio ve lo faccio vedere dopo, andiamo ad allestire l'ufficina E voilà direi che ci siamo, siamo arrivati in fondo anche a questo video E adesso vi faccio fare un giro come mi hanno chiesto molti di voi Qua c'è la rastrelliera dove abbiamo bucato il tubo e che ci ricorderemo un po' per tutta la vita Altri self-skate, Triton, un po' di abbigliamento, berrettine, un po' di cosine, calzettini, accessori per skater vari Skateboard un po' da tutte le parti, anche per terra, adesso questi li troveremo un posto migliore E poi magliette, bellissime, magliette di Bons e di Independent Un po' di design e accessori vari Qua c'è una rastrelliera piena di skate da assemblare Vetrinetta piena di track da skate di ogni genere tipo Cappellini da skate, caschetti Track da longboard, ruote da skate a non finire E poi anche ruote chiaramente da longboard Tutti gli accessori con i cuscinetti Ancora skateboard con i miei completi preferiti, i power E poi un po' di storia con qualche bella tavola on school Guardate qua chi c'è 1988 come ero bello pafutello sulle mie prime rampe E guardate che bella la Vision Joker Guardate un po' Qua con gli amichetti al compleanno penso di qualcosa come i 9 anni E poi qua ancora c'è qualche bel ricordo Con la tavola con cui ho fatto il mio primo viaggio in skate Insieme a Michele da Rimini a Via Reggio Questo è skate trip Qua c'è l'ultima parte che lo so che siete curiosi Con l'oppicina Facciamoci un giro anche qua Tutti i mezzi scassati in riparazione Qua c'è il mio banco dove riparo questi aggeggi qui Ricambio un mucchio di roba elettrica Cose strane, pneumatici e roba eccetera eccetera Sempre per i monopattini E poi ricambio per gli skate, cuscinetti, grip E qua un altro po' di mezzi elettrici tutti da riparare E questa Adesso ripariamo anche quella elettrica Questo è tutto anche per questo video Io ti lascio con il video dell'inaugurazione Perché è stata un'inaugurazione tutta particolare Quest'anno è un anno un po' strano Lo immaginerai E quindi ho dedicato un'inaugurazione Ai miei clienti preferiti Ai bambini Per loro ho organizzato una caccia al tesoro Ci vediamo nel prossimo video E ricordati che il modo migliore di supportare questo canale È fare i tuoi acquisti sul nostro shop online O sui siti dei nostri partner Ciao Pronti? Wow Wow Ohhhh Sous-titres par Juanfrance